Un momento, che qui si lavora! Un momento, che stiamo lavorando! E' un attimo, che avete l'eternità! Minchia, morirei che in Italia ancora vi ha trovato il lavoro? Ecco mi pare che sia la stessa cosa! Ma perché il tuo lenzone è sempre così bianco? Perché uso l'opido bianco! Ciao, 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 ciao! Ma chi era questo? E' quei, 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 quei! E' un po' di due cose... hai compilato tutti i moduli? si ok ho un lavoro giusto per te qual è? il fantasma del comodino e che sarebbe? semplicissimo tu tutte le notti devi andare dalla persona che ti indichiamo e quando lui si alza per andare in bagno tu gli devi fare sbattere il mignolo del comodino mi piace ah Goster Chef i tre giudici Scracco, Cannaruzzone e Janic devono giudicare gli ultimi quattro concorrenti rimasti in gara Chabeto facci assaccare il tuo piatto che cosa avrei preparato per noi a petto? Consommet de crayon ma questo è il stupido brodo di ciceri non so se ti salvi stavolta Giovanni facci assaggiare il tuo piatto Giovanni cosa ci avrei preparato tu? un pietro di cime dei re molto bene tu si che ti salverai sicuramente ma è ancora congelato da un anno? la freddura è stata troppo fredda grazie a tutti Buonasera e benvenuti a questo insieme Altigiani Notizia sensazionale, il nostro Tino Modena ha scoperto come vengono occupati i fantasmi A te la linea Tino Grazie Giovanni per la linea, siamo qui all'ufficio Misteri per Fantasmi e abbiamo il direttore Direttore, ma a giorno d'oggi è facile trovare un lavoro per i fantasmi? Noi diamo lavoro a tutti Mi piace, mi piace, mi piace, lo doy Grazie a tutti 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 Grazie a tutti